Ok, guanti, mettiamo in moto Magari metto tutti e due i guanti 40 gradi e mezzo, mamma mia Iniziamo Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video Io sono capo della 3TS Per chi è già iscritto, vabbè lo sa già Per chi non è ancora iscritto, intanto che si iscriva Perché miseria quanto corri Non serve che vai come un missile Per chi è già iscritto, bene Per chi non è iscritto, lo faccio immediatamente Cosa vedrete in questo video? Non lo so Oddio, qualcosa vedrete Per esempio una moto, dei guanti Oggi intanto si va a lavorare Quindi per la magia dell'editing Dalle 3 del pomeriggio diventeranno le 6 Andrò a vedere un casco nuovo Vediamo se trovo qualcosa Dopodiché, giretto in città Modalità Street Fighter Con il mio amico The Diablo Luca per gli amici Con la MT-03 Pizzetta del sabato sera E dopo si va a casa Vediamo cosa ne esce fuori Oggi Quindi Ci vediamo al 6 Che c'è? Adesivi Che c'è? È che qualche cosa Mi attacca gli adesivi sulla moto Ah, se lo becco, guarda Sono le ore 18 Abbiamo finito di lavorare Finalmente E come vi avevo anticipato Adesso si va In un negozio di caschi E dopo in città A fare un po' di Bravi ragazzi Bravi ragazzi Bravi ragazzi Garappa Garappa Molto piacere Rai 1 E la signora È calda? È calda Bene Era fredda La signora leva l'auto sotto i ponti Era fredda Oh, è arrivato Luca Ciao Andiamo alla motocera Di che ci aspettano due Adesso andiamo a raggiungere Stefano Con la MT09SP E Andrea Con il BMW K1003 Oh, chi si vede? Il Nereo Rocco Andiamo a vedere Se c'è un casco arancione Salve, salve, salve Salve, salve Salve, salve Bene Ci vediamo dopo Mi trovi Ma vola già Qua e nulla E ginocchia Piego un po' Pascosta Boh, prendo questa Vai Forse è meglio di no Troppi cavalli Ok, il casco Non l'ho trovato Speriamo me lo trovino E... Andiamo a fare un giretto in città Va E... Caschi, vuoi... Dove vai? Caschi? Vai Cos'è, diesel? Salve, salve Non siamo neanche partiti Al posto Allora, adesso faremo la rotonda Faremo la rotonda Lui non fa la rotonda Attenzione, è impennata Il vecchietto si è arrabbiato Perché? Perché si è arrabbiato? Io non ho fatto niente C'era il vecchietto che si è arrabbiato Hai visto? È invidioso È invidioso Non gli va più su Non gli va più su Oddio, stiamo per entrare in galleria È meglio che non entro io Ai, ai, ai Mi, 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 mi Porca miseria Attenzione, il ginocchio per terra Salve Le ragazze sono emozionate Attenzione KTM versus cinese Hai fatto colpo 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 Se la porta in sedia È fatta Andrea, è fatta Salve Candela Ma è diretto tranquillo Attenzione Attenzione Gas a martello Gas a martello 20 all'ora È l'autobus che mi fa secco Salve Che la gente prende paura? Tamponamento Con stata azione amichevole No, ti sei fatto dar via da uno scooter Ma da uno scooter Ti ha dato via uno scooter Ti ha dato via uno scooter Mamma mia Vedrai Su YouTube tutti ti prenderanno in giro Occhio qui c'è il pistone Bravo Hai vinto contro un cinquantino Scusa ma tu sei K8310 No, non sono io No, non sono io Scusa è un nuovo Scusa Kappa Hai un mito Sì Ci vediamo su YouTube Adesso la ragazza Tira di nuovo via Come scusa? No Ah ok Arriverà anche per te lo scarico Scusa è il sito da sotto no? Avete finito di fare le guarda quei due? Sì? Oh, parcheggia 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 Vai 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 E dove è andato quell'altro? Eh, vuoi buttare sotto? Salve Eh, salve Bene Bene Se il video vi è piaciuto Lasciate un like Iscrivetevi Commentate Condividete Gherappa 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 Grazie a tutti.